Buonasera, buonasera a voi. Allora voglio rimanere sul tema che riguarda l'offensiva da parte dell'Ucraina su territorio russo. Offensiva che sta creando soprattutto problemi all'economia, perché nel video, chi se lo fosse perso nel video del pomeriggio, ho chiaramente sottolineato come immediatamente c'è stato un aumento del gas che al momento è intorno al 5-10%, ma potete ben immaginare potrebbe arrivare ai livelli dell'inizio della guerra, cioè del febbraio del 2022. Tanti hanno scritto, qualcuno anche su questo canale, ma da altre parti moltissimo, dicendo ma smettete è assolutamente giusto che Zelensky faccia la sua controffensiva in Russia, è giusto che lui attacchi i russi sul loro territorio perché è giusto che lui si possa in qualche modo rivalere, vendicare, insomma ognuno ha scritto le sue cose. Io di fronte a questo modo di ragionare e soprattutto all'ignoranza delle persone che vuol dire ignorano esattamente come stanno le cose, io rimango veramente inoridito. Allora, parliamoci molto francamente. L'Unione Europea e la stessa NATO e in particolare l'Italia, è il paese che ovviamente a noi interessa, hanno fornito e forniscono le armi all'Ucraina con un vincolo ben preciso, ben preciso, che è quello di utilizzarle solo a scopo difensivo. Che poi sia giusto, sbagliato, che uno lo condivida, non lo condivida, non me ne frega niente, i trattati vanno rispettati e soprattutto a me non sta bene essere preso in giro dal mio governo che, ripeto, andatevi a rileggere le carte, chiaramente c'è scritto che il Parlamento ha votato a favore dell'invio delle armi e dello stanziamento, ma solo, ripeto, ma solo, ripeto, ma solo a scopo difensivo. Perché altrimenti, chiaro, caro Piotr Zelensky, t'arrangi, t'arrangi da solo, non chiede aiuto a mezzo mondo. Io posso ancora, ancora capire e concepire se uno viene attaccato che chiede agli altri di essere aiutato, di potersi difendere, ma non nel momento in cui tu chiedi e applichi una controoffensiva. Io credo che sia talmente chiaro, talmente trasparente e non voglio entrare ancora una volta nel merito delle ragioni che pure Putin ha, sicuramente, e non lo dico soltanto io che potrei essere così passato per un putignano, ma lo dicono anche analisti molto esperti, molto attenti, e l'ha detto lo stesso Papa Francesco, che se tu abbai alle mie porte, è chiaro che tu poi, prima o poi, ti devi aspettare la mia reazione. Quindi davvero incredibile, ancora una volta, il modo di pensare di certe persone, l'ignoranza che c'è dietro, e soprattutto, ripeto, magari uno può essere anche ignorante, non sapere di geopolitica, non sapere di guerre, ma perlomeno essere informato su cosa ha votato il Parlamento italiano, che sono esponenti che abbiamo mandato noi, almeno quello uno dovrebbe saperlo. E io non arrivo a concepire che uno non sappia, ripeto, che diamo le armi agli ucraini, l'Italia ha votato, ma solo a scopo difensivo. Ed ora, invece, loro li stanno utilizzando a scopo offensivo. Molto, molto chiaro. Con questo vi saluto, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.